un cordiale saluto buongiorno a tutti voi oggi è lunedì 24 agosto e allora ben ritrovati sul canale 17 di fano tv c'è la rassegna stampa del mattino che comincia come sempre con il santo del giorno e oggi è san bartolomeo un santo che ci ricorda a noi fanesi una fiera che purtroppo quest'anno è saltata per sappiamo tutti per la questione del covid ma una fiera è un santo che ci appunto ci ricorda che l'estate sta finendo come dice una vecchia canzone san bartolomeo dicevamo nato a cane di galilea alba 6 25 tramonto 20 04 vediamo il tempo e anche il tempo oggi è destinato a cambiare secondo quanto prevede il bollettino pubblicato sul sito della regione marche all'indirizzo della protezione civile sarà una giornata con temporali sparsi lungo la regione non omogenei come vedete la provincia di peso urbino la costa perlomeno sarà risparmiata anche se poi nel corso del tardo pomeriggio saranno probabili anche piovaschi o brevi rovesci comunque questa è un po la situazione per oggi domani invece tenderà a migliorare con la costa adriatica libera da nuvole sarà una giornata serena o al più poco nuvolosa con aria terza la parte centrale invece di questa settimana sarà caratterizzata da tempo stabile con temperature in ripresa anzi saranno temperature destinate a salire ulteriormente avremo giornate di fuoco 36 gradi una cosa incredibile ma chi sta al mare come il nostro bagnino Tommy non ha problemi di calura oggi c'è il mare mosso però buongiorno come mai beh sicuramente il vento di di stanotte non ha aiutato marco quindi che giornata prevedete o niente di preoccupare che giornata si prevede buona dai ma si parte in cattivo tempo che arriverà con delle delle false aspettative insomma ecco la settimana scorsa ci aspettavamo un lunedì di pioggia invece sarà bello dai eh sì la scorsa settimana non abbiamo azzeccata una con le previsioni del tempo però meno affano eh cioè è incredibile oggi però hanno messo un po di pioggia nel tardo pomeriggio eh comunque guarda che spettacolo guarda che roba che bei colori che hai dietro di te mamma mia davvero molto bello l'infinito allora grazie a Tommaso Tommy per tutti ormai eh il bagnino che si trova in spiaggia a Fano ai bagni eh Carlo con lui l'appuntamento per domani mattina adesso andiamo invece a leggere un po' le pagine dei nostri eh giornali e cominciamo dalla pagina nazionale del resto del Carlino eh noi italiani senza calcio eh non sappiamo stare e dunque eh abbiamo già eh come dire sofferto mi ci metto anch'io anche se poi a me il calcio non è che poi piace tanto ma è comunque eh poco importa dicevo a noi italiani piace comunque il calcio eh la notizia di oggi è che però il virus è entrato nel pallone qui c'è la fotografia di Mijailovic l'allenatore del Bologna che dopo aver sconfitto l'eucemia adesso però è positivo al covid però sta bene dice la figlia anzi sta benissimo sale però il numero dei contagi eh con il covid i campionati a questo punto cominciano ad essere di nuovo a rischio l'apertura però è per i contagi da vacanze caos controlli le regioni procedono ognuna per conto proprio manca una direttiva nazionale sui tamponi le falle più evidenti nei porti salgono nuovi infetti e ricoveri braccio di ferro sui migranti il governo contro la regione Sicilia gli hot spot restano aperti e poi tante promesse ma pochi fatti il terremoto non finisce mai eh sisma nelle marche quattro anni dopo la ricostruzione non eh decolla questa invece è la pagina interna del eh corriere adriatico e qui si parla eh di eh quelli che sono i protocolli del calcio eh quindi che prevede eh per chi milita come professionista nel calcio dalla serie A alla serie C e poi quelli che invece sono i protocolli per le serie più cosiddette minori le più piccole dalla serie D praticamente in giù i dilettanti a questo punto sono già alle spalle al muro perché con l'area che tira con i contagi che salgono e che eh vedono anche molti giocatori soprattutto di serie A eh con positivi eh allora anche qui bisogna iniziare anche a parlare in termini corretti cioè è vero che sono positivi ma un conto essere positivi un conto essere malati facciamo anche questa distinzione che è molto importante perché altrimenti eh poi non si capisce eh quindi i positivi sono positivi persone spesso asintomatiche che non hanno sintomi che però portano in corpo il virus mentre gli ammalati sono gli ammalati c'è poco da dire ecco però un pochissimi sono gli ammalati eh tantissimi invece purtroppo stanno risalendo eh coloro che hanno il eh covid allora dicevamo tornando alla questione del calcio protocolli è interessante vedere in questo eh in questo articolo che pubblica appunto il Correa di oggi intanto come sta la situazione eh in varie punti della nostra regione dopo i casi di Osimane e Recanatesi il porto Recanati per esempio ha sospeso gli allenamenti e la maceratese ha rinviato il raduno precampionato i protocolli sono costosi e complessi per tutti i club un dubbio che attanaglia 6.000 sportivi quindi non sono pochi allora velocemente quali sono i protocolli anche per farvi vedere la differenza allora intanto per chi milita tra i professionisti dalla Serie A alla CRC c'è l'obbligo dei tamponi per esempio ogni quattro giorni per i giocatori lo staff tecnico e lo staff medico ovviamente il distanziamento sociale negli spogliatoi le sanificazioni continue negli spazi comuni e poi in caso di positività questa è una delle differenze tra le due categorie in caso di positività di un giocatore doppio tampone a tutto il gruppo tutta la squadra che però può continuare l'attività quindi tra i professionisti anche se c'è un giocatore positivo c'è il tampone doppio e poi comunque la squadra può continuare a giocare mentre c'è il divieto di fare le cosiddette partitelle le amichevoli con squadre minori dilettantistiche invece se andate sotto a leggere vedete nei dilettanti la situazione evidentemente chiaramente è diversa intanto non c'è nessun obbligo di fare i test sierologici all'inizio della preparazione basta un'autocertificazione di buona salute quindi uno che dichiara sto bene così per lo staff tecnico e lo staff medico ovviamente il distanziamento questo sì negli spogliatoi che però essendo campionati piccoli dove non ci sono molte risorse anche gli spogliatoi sono minimi quindi spesso è impossibile sono piccoli, angusti quindi è impossibile avere gli spazi necessari per stare distanziati mentre in caso di positività ecco la differenza che vi dicevo se c'è un giocatore nella serie dilettantistica positivo va in quarantena tutta la squadra immediata mentre un dirigente serve un dirigente in questi campionati che tenga un registro completo delle presenze a tutte le attività della squadra. Andiamo a dare le prime pagine adesso del Corriere e il resto del Carlino intanto la Movida, la Movida è importante perché quest'ultima fine settimana era stato annunciato da parte del prefetto, la Polla, prefetto di Peso Urbino, annunciato un giro di vite quindi chi è andato in giro in questo fine settimana sicuramente avrà notato molte più pattuglie di polizia, carabinieri, guarda di finanza in giro per controllare. E a Fano devo dire che la polizia locale è andata giù duro perché sono stati sanzionati, sono stati sanzionate alcune persone tutti giovani, multe piuttosto salate perché 400 euro perché non avevano la mascherina. Quindi a Fano rispetto a Pesaro la mano è stata molto più pesante. A Pesaro invece è stata sgomberata piazza d'annunzio come pubblica e titola il Corriere questa mattina nell'edizione di Pesaro d'apertura, un migliaio di ragazzi erano assiepati, assembramenti in Viale Trieste, nessun eccesso sottomonte, una barriera di auto e di servizio per facilitare il deflusso della folla, allerta anche nelle spiagge. A centropagina la ripresa si fa complicata, la ripresa del calcio dilettante, il Covid è già un rebus. A Fano ha investito un tredicenne in bicicletta, all'ospedale insieme all'autista, domani l'addio alla mamma di Benedetta, poi trafiera tre le fiere annullate, gli ambulanti dicono siamo allo stremo e adesso il Carlino di Pesaro. Senza mascherina, ragazzi multati, dieci giovani addirittura, dieci giovani sorpresi a Fano sprovvisti della protezione obbligatoria, Pesaro movì da sì ma niente eccessi. E poi a centropagina era l'uomo dei motori, la scomparsa di Paolo Prosperi, uno dei fondatori del registro storico Benelli, aveva 76 anni sulla storia dei motori, aveva scritto ben quattro libri. E poi la prof che ha deciso di fare il test sierologico, lei dice di così, dice sì perché lo sento come un dovere. Oggi, da oggi, al via infatti i test volontari sierologici per tutto il comparto dell'istruzione. Poi a Pesaro, con certo il ricordo di Bertuccioli, tutta la piazza per Mirko non si piange ma si balla. E poi un'intervista sul Carlino a Mangialardi, vinceremo noi, dice lui, dall'Europa le risorse per togliere alle Marche il gap infrastrutturale. Il calcio serie C, il ritmo cubano di Meli, poi Vigolo e Zigrossi, il Fano è scoppiettante. Il nuoto, la nuova Alba di Aurora Poncele, medaglia d'oro nella 5 km. Andiamo a vedere la pagina interna del Corriere Adriatico, un migliaio di ragazzi assiepati, sono queste le fotografie di riferimento con, vedete, le forze di polizia, i carabinieri in questo caso nella fotografia 3 in alto, gli steward privati che hanno assistito i gestori dei locali per regolare la movida, gli accessi e quant'altro. E poi sotto, vedete, ma anche nella foto della spiaggia, tante persone assiepate sotto l'ombrellone a cena, mentre in Viale Trieste tantissima gente che ha affollato, chiaramente siamo nelle ultime giornate di quest'estate, quindi estate già di per sé anomala particolare, quindi c'è anche questa voglia di godere di queste ultime giornate per uscire anche la sera dopo cena e farsi una passeggiata. Una barriera di auto, dicevo, di servizio anche per facilitare il deflusso della folla, impegnati i carabinieri, Polizia Municipale, assembramenti sono stati registrati in Viale Trieste, mentre nessun eccesso ha sottomonte. Un centinaio di giovani sono stati però allontanati dalle spiagge, mentre a Fano erano a zonzo, senza la mascherina e quindi dieci multe volate così da 400 euro. Dunque Fano, scrive il Corriere, fa sul serio, dopo gli avvisi anche con l'altoparlante scattano le sanzioni. Senza mascherina, multa di 400 euro il titolo del Carlino, la serata salata di dieci giovani, sono state elevate le sanzioni da 400 euro, che se pagati entro sei giorni si possono ridurre a 280 euro. I controlli sono stati effettuati dalla Polizia Locale nella serata di sabato nei luoghi di maggiore concentrazione dei giovani, tra Lungomare e Centro Storico. A Pesaro, sotto, Movida col freno a mano, non c'è stata la temuta anarchia, probabile sanzione ad un locale di Via Sauro per assembramento, spento un barbecue invece in spiaggia. Intanto, finalmente, secondo il bollettino del Gore, se ieri si è tornati in provincia di Pesaro Urbino ha zero contagi e questa è una bella notizia, visto che abbiamo trascorso un'estate critica dopo l'inverno da tragedia e i 523 morti in provincia. Quindi il primo giorno ieri, dopo una fine di luglio, i primi di agosto, in cui invece i positivi ci sono sempre stati, con anche dei picchi, per esempio quello dei 19 positivi, il giorno del 14 di agosto, con una persona, un sessantenne di Fano, ricoverato in terapia intensiva, che però ora sta meglio, scrive il giornale questa mattina. Chiusa la pagina del Covid, per noi che siamo qui a Fano e che quindi viviamo nella comunità, dove più o meno ci conosciamo tutti quanti, la pagina di oggi di Fano è una pagina straziante, perché è piena di dolore, perché ricorda una notizia che poi è stata battuta ieri e che ha fatto il giro di tutta la città nella giornata di ieri, ieri l'altro appunto, la morte della mamma di Benedetta Vitali, Cinzia, che vedete in questa fotografia qui insieme alla nipote Valentina. Domani alle 10 ci saranno i funerali di Cinzia Gregorini. Chi è Cinzia Gregorini? Cinzia Gregorini è la mamma di Benedetta Vitali, morta nella strage di Corinaldo. Avrebbe compiuto il 59 anni e proprio oggi avrebbe coronato la sua lunga storia d'amore col compagno Corrado, il padre dei figli Francesco e Benedetta. Gli anelli inunziali erano stati ritirati giovedì pomeriggio dall'orefice e fatti benedire nonostante Cinzia fosse entrata in coma a Ferragosto per una violenta e recente recidiva della sua malattia. E però il fisico già debilitato di Cinzia non ha retto e quindi si è congiunta con la figlia Benedetta. E si svolgeranno domani mattina appunto alle 10 nella nuova chiesa del Carmi, nella Gimare, i funerali della mamma di Benedetta e dopo i funerali Cinzia sarà cremata e riportata a casa per riposare accanto alle ceneri della figlia Benedetta. Poi giorni su Facebook e quant'altro, testimonianze d'affetto di ogni genere. Francesco, il figlio, sulla sua pagina ha scritto ciao mamma, anzi no ha scritto le parole sono poche, ciao mamma ti amo. Ecco queste sono le parole che ha scritto Francesco. Ora sono rimasti soltanto i maschi in famiglia. Corrado al quale rivolgiamo il nostro abbraccio, il nostro saluto e l'affetto e le preghiere più sentite, più grandi e poi c'è Francesco. Ecco sono rimasti solo loro due. Anche il Corriere Adriatico scrive domani l'ultimo saluto a Cinzia. Seri, il sindaco della città, dolore aggiunto a dolore, oggi la madre di Benedetta avrebbe compiuto 59 anni. Si sono riunite in cielo, mamma e figlia. Prevista una partecipazione numerosa al funerale di domani, ma per effetto del distanziamento sociale la nuova chiesa del Carmine non potrà accogliere più di 100 persone. Di conseguenza il parroco si avvarrà Don Gianni di altoparlante all'esterno per fare in modo che il rito funebre possa essere seguito anche dal sagrato. La pagina di Fanno del Corriere, un tredicenne in bicicletta travolto da un'auto all'incrocio, è successo intorno al 12.45 nel quartiere Poderino, mentre in sella la sua bicicletta stava transitando nell'incrocio tra via della Libertà e via Le Dantinori. È stato urtato da una Citroen condotta da una quarantenne di Arcevia che è stato, questo tredicenne è stato catapultato sul cofano e quindi ha infranto il parabrezza dell'autovettura. Nello scontro anche l'autista è rimasto ferito e tutti e due sono finiti praticamente all'ospedale. Poi ci sono stati altri due schianti nel fine settimana che hanno visto feriti uno scooterista e un motociclista. Sulla pagina invece di Fermo, questa è una notizia che ha fatto il Giro d'Italia, siamo sempre nella nostra regione, nelle Marche, una morte che ancora ha alcuni lati oscuri, un giovane che è stato trovato sul fondo della piscina, immaginate in una delle tante case sparse nelle nostre splendide colline marchigiane a un certo punto alle 3 e 2 di notte, del mattino insomma, quando una piacevole serata tra amici stava volgendo al termine, c'era stata una serata, praticamente una cena con un po' di gente, una quindicina di persone che sono state invitate dalla proprietaria di casa, a un certo punto tra queste persone c'era anche questo 33enne di Miano, frazione di Teramo, si chiama Stefano Pirocchi e mentre questa festa proseguiva a un certo punto lo sguardo di uno dei commensali è finito sulla piscina, sul fondo della piscina, dove ho visto questa persona che stava lì, ha dato subito l'allarme, chiaramente sono arrivati subito i soccorsi, nessuno ci aveva fatto caso insomma, e adesso resta da capire che cosa è successo. Ora immagino qualcuno di voi già avrà pensato, chissà cosa avrà fatto, chissà... No, Stefano non aveva assunto stupefacenti e nemmeno gli altri partecipanti alla serata, quindi puliti. Sono stati ascoltati dai carabinieri, le versioni sono concordanti, Stefano era insieme agli altri amici per tutta la serata, è stato insieme agli altri amici, difficile quindi indicare con precisione in quale momento si è entrato in acqua, a questo punto le ipotesi più concrete sono quelle che, ecco qui la piscina, dicevo le ipotesi più concrete sono quelle di una congestione oppure di un malore fatale. E quella della congestione, attenzione, perché pare che sia una cosa che molti prendono a leggera, uno mangia, poi dice vabbè tanto non sento freddo, prendo, mi butto in acqua, ma in realtà oppure prendo un bicchiere di acqua fresca, magari nel cuore della notte e senza pensare bene invece al fatto che il nostro organismo magari ha caldato anche con questa calura che c'è in questi giorni, quindi il nostro corpo è molto accaldato, uno butta giù un bicchiere d'acqua, magari un po' fresco e rischia, e si rischia di grosso con la congestione. Nella pagina di Senigallia, urla, cori e bidoni presi a calci, la notte è un incubo per i turisti, decine di telefonate a centraline delle forze dell'ordine, multati due giovani, uno per le norme anti-Covid, la maggior parte delle lamentele è arrivata dagli ospiti delle strutture del lungomare Alighieri. Paolo Prosperi, ai motori lui faceva l'attack, addio all'uomo che è stato presidente del registro storico Benelli, aveva 76 anni, ucciso ieri mattina da una emorragia cerebrale. Specializzato in ortopedia, Biancani dice abbiamo perso un grande amico, autore di quattro libri sull'epopea della Molaroli a Brusi, la BBC e poi Benelli. Questo è l'articolo che il giornale dedica questa mattina appunto alla scomparsa di Paolo Prosperi, mentre di un'altra persona scomparsa a Pesaro che nel periodo più difficile del lockdown ha generato veramente molto sconforto, ovvero la morte di un cantante, molto conosciuto a Pesaro, Mirko Bertuccioli, uno dei Camillas, che è morto purtroppo per le conseguenze del Covid. Niente lacrime per Mirko, titola il giornale questa mattina, si balla. Il concerto inaugurale della mostra del cinema è un toccante addio in piazza al musicista dei Camillas. Urbino dimentica invece Paolo Volponi, ma il suo pensiero è attualissimo. Passato in silenzio, l'anniversario della morte, il mancato impegno di Sgarbi per l'intitolazione dei portici. Mentre al via, a Pergola, ingegneria naturalistica contro la frana di Monterolo. L'obiettivo è la riapertura provvisoria della strada in attesa dei lavori di consolidamento. Mentre da Pesaro, misure per le imprese, cassa integrazione, sgravi per chi assume e aiuti per il turismo. Decreto agosto, la CNA interviene sulle ricadute nel tessuto produttivo provinciale. Mancano però i decreti e le circolari IMSS. Mentre gli ambulanti, quelli che fanno le fiere e non solo i mercati settimanali in giro per le marche, scrivono ai vari sindaci, quelli che hanno praticamente vietato le fiere come quella di San Bartolomeo, che si sarebbe dovuto tenere oggi a Fano. Gli ambulanti fieristici, dicevo, scrivono ai sindaci e dicono eventi annullati invece di farci lavorare. Siamo allo stremo e arrabbiati. Ora immagino che questa lettera, questa lunga lettera, anzi scritta da questi ambulanti, inviata ai sindaci di Fano, Senigallia e Pesaro, a firma degli ambulanti fieristici che denunciano una situazione emergenziale per il settore, a partire dalla cancellazione della tradizionale fiera di San Bartolomeo, San Nicola e Sant'Agostino, farà discutere e farà arrabbiare anche qualcuno di voi. Perché? Perché insomma, immagino già qualcuno dirà questi pensano i soldi, quando in realtà bisogna pensare prima alla salute. Nel Mirino, appunto, c'è la cancellazione delle mostramercato in queste tre città. Vabbè, c'è la lettera che poi potrete leggere nei giornali. Adesso invece andiamo sulle pagine dedicate allo sport, perché siamo in chiusura. La Vis corre e inizia a prendere la mira, specie con Marchi. Quattro reti nel primo test in famiglia al Benelli, domani un altro giro di tamponi per la squadra. Sotto invece il Fano, l'Alma, Meli, l'italo-cubano Gabriel Meli, che vedete in questa fotografia, lui ha 21 anni ed è il nuovo portiere del Fano. Dice lui, ho scelto il Fano perché mi ha cercato con insistenza. Vabbè, è genuino. Il portiere fiorentino dice, non vedo l'ora già che inizi il campionato. Mentre sul fronte del basket, quindi la VL, la Carpegna Prosciutto, è scattato qualcosa ed era ora, dice Alessandro Mengucci in questa intervista, e che spiega dove spiega la rinascita della VL, perlomeno la rinascita sulla carta. Poi sarà tutto da dimostrare, ma credo che già le premesse siano più che sufficienti, siano più che buone. Tra i tifosi, dice Mengucci, è tornato un entusiasmo davvero palpabile e siccome il tifo è come sempre l'uomo in più nel campo ed è quello che a volte fa anche la differenza, insomma, a partire con questi presupposti, direi che è un buon inizio. Allora, noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, torna domani mattina puntuale alle 7. Salutiamo anche quelli che ci seguono on demand sul nostro sito internet, sui social, coloro che ci guardano anche in altri momenti della giornata, in replica sul canale 17. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia e come sempre potete anche voi collaborare con la nostra redazione in che modo? Inviandoci le vostre segnalazioni, che possono essere segnalazioni di cronaca, possono essere segnalazioni di disservizi, richieste in qualche modo di aiuto, tra virgolette. Ecco, insomma, aiutateci a comporre anche per la giornata di oggi il telegiornale che poi vi proporremo questa sera alle 20.30. Intanto io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.